Abbiamo parlato di app, ci siamo concentrati sui concetti del 2020, abbiamo fatto una bella chiacchierata sul software e oggi che è mercoledì 30 dicembre del 2020 siamo qui a una manciata di ore dal nuovo anno per fare una bella chiacchierata, una bella scorpacciata in realtà di tutto l'hardware che quest'anno ci ha in qualche modo presentato. Un hardware che ovviamente non può prescindere dall'elefante nella stanza, il processore M1 di cui parleremo diffusamente ma non solo, perché quest'anno è stato l'anno della mediocrità, è una cosa positiva? Onestamente sì. La presunzione che cerco ogni volta di puntare qui su Yetek è quello di voler parlare sempre della tecnologia ai massimi livelli. È una cosa che mi ha permesso comunque nei quattro anni del podcast di iniziare un percorso che poi semplicemente è quello di capire il viaggio che la tecnologia sta facendo. Però ho peccato di non essermi concentrato su qualcosa che in realtà poi rappresenta di gran lunga la maggior parte della volontà che ha la gente e che questo 2020 in un modo o nell'altro ha fatto suo. Quest'anno abbiamo visto due segmenti come i principi, perché comunque il segmento top di gamma è il segmento che in ogni caso continuerò ad affrontare qui su Yetek. Però quest'anno è stato messo anche da Apple forse in secondo piano, cercando in realtà di spingere due segmenti, Apple ma non solo, che onestamente potevano essere e possono essere il fulcro della tecnologia. E sto concentrandomi soprattutto sul segmento più basso del mercato, quello entry level, in cui le aziende quest'anno hanno iniziato a metterci energia, perché comunque Apple nel 2020 ha iniziato l'anno quasi in maniera soft, con dei prodotti che notevolmente non vanno classificati in questo segmento, perché i primi prodotti che ha presentato ad esempio sono stati i nuovi iPad Pro, di cui parleremo a breve in futuro, qui all'interno della puntata, però il primo prodotto degno di nota possiamo dire che è un iPhone SE, un iPhone SE che sicuramente non è un prodotto entry level, ma comunque è la fascia bassa di prodotti Apple. Comunque è un segmento, quello di iPhone SE anche della prima generazione, che nel corso degli anni si sta facendo sempre più interessante, perché comunque quest'anno, avendo poi Apple ancora in catalogo, l'iPhone XR, l'iPhone 11, in sostanza deve essere ancora lasciato nei vecchi ranghi, quindi ancora per intenderci il tasto home, però il processore A13, che è il processore del 2020, perché comunque la 14 ci sta facendo semplicemente compagnia dal mese di ottobre, quindi solamente per una piccola porzione dell'anno, in realtà è un processore che viaggia notevolmente bene, è un prodotto che, secondo me, ha fatto fare dei balzi in avanti notevoli agli iPhone del passato, pensiamo semplicemente all'iPhone 11 e all'iPhone 11 Pro, con il processore A13, con l'ottimizzazione del processore hardware e software, ricollegandoci anche a quello che ci dicevamo la scorsa settimana, ha fatto dei significativi balzi in avanti in termini di prestazioni, ma anche di ottimizzazione della batteria, facendo quasi un miracolo. E onestamente la cosa che Apple fa, quindi prendere l'ultimo processore, mettendo in realtà poi il core in un altro segmento del mercato, è qualcosa che fa bene, perché comunque il telefono per antonomasia, l'iPhone per antonomasia, ha ancora magari nel cervello di tante persone il tasto home, e per un prezzo abbastanza contenuto, Apple riesce comunque ad offrire notevolmente un telefono che durerà 4-5 anni in termini anche di aggiornamenti, ad un prezzo relativamente economico, facendo spendere poi magari 100 euro all'anno, avendo comunque un prodotto che vale la pena. Vi dicevo la scorsa settimana, io in casa ho ancora degli iPhone 6S, sono aggiornati alla 14.3 di iOS, e funziona veramente, veramente bene. Quindi quando probabilmente nel 2021 i prodotti non riceveranno più gli aggiornamenti, magari consiglierò per esempio a mio papà di passare ad un iPhone 6 del 2020, se non vuole in realtà spendere i soldi per fare un upgrade, per esempio ad un iPhone XR, ad un iPhone 11. Mio fratello usa un iPhone 11, si trova veramente, veramente bene, e secondo me la direzione in cui Apple potrebbe andare è proprio quella dell'iPhone 11, perché comunque poi parleremo ovviamente anche della fascia più alta di Apple, perché la fascia top è la fascia in prevalenza di Apple, però notevolmente in questo 2020, che stiamo per salutare, ma che potrebbe essere là per un 2021, visto che poi parleremo, quando tratteremo la fascia media, anche di iPad Air, con la novità più importante, che è il Touch ID nel tasto Home, a me piacerebbe che comunque tutto quel brevetto possa anche arrivare in un futuro, in un nuovo iPhone SE, magari allo stesso prezzo, con la nuova concezione di iPhone, perché comunque negli anni abbiamo visto l'iPhone SE di prima generazione con in realtà lo chassis dell'iPhone 5S, con le componenti del 6S, adesso abbiamo visto un iPhone 8 con il cuore di un iPhone 11, e chissà, magari già nel 2021 o magari nel 2022 vedremo nel corpo di un iPhone 11, di un iPhone XR, il cuore di un iPhone 12 o di un iPhone 13, per cui la gamma più bassa da parte di Apple è decisamente interessante, ma non solo, perché comunque nel 2020 abbiamo visto per esempio anche OnePlus, con OnePlus Nord, che addirittura credo sia stata in offerta, non mi ricordo se a 150 o a 200 euro durante il Black Friday, addirittura con un refresh rate di 90 Hz, che poi diremo quello che l'azienda non è riuscita a fare, inteso come Apple, per cui la fascia più bassa del mercato in questo 2020 l'ho trovata veramente interessante, perché comunque vuol dire che le aziende notevolmente vogliono mettere energia, perché comunque pensiamo a quello che ha fatto OnePlus con i top di gamma, con OnePlus 8 Pro, uno dei migliori smartphone della fascia alta, però anche nella fascia intermedia OnePlus con 8T e 8 ha fatto molto bene, però la cosa abbastanza interessante è vedere comunque anche OnePlus Nord, quindi un prodotto che resta ad una fascia di 399 euro è ad un prezzo molto interessante, perché poi comunque ricollegandoci anche all'ottimizzazione di cui parlavamo sette giorni fa, OnePlus Nord credo abbia 6 o 8 giga di RAM, mentre ne abbiamo solamente 3 nell'iPhone SE, per cui comunque le compagnie stanno iniziando, lo ha fatto anche Google con il Google Pixel 4a, affiancandolo in realtà ad un Google Pixel 5, a sfruttare anche le altre fasce del mercato, ma per esempio andando nel settore possiamo anche considerare come nel segmento basso di Apple ci sia in realtà anche l'iPad 8, un prodotto che costa molto molto meno di un iPad Air, di un iPad Pro, che consoli praticamente 400 euro, perché comunque si trova a 389, con il processore A12, che è lo stesso processore che trovavamo l'anno scorso a bordo dell'iPad Air di terza generazione, con un display abbastanza grande, perché comunque parliamo di un display con una diagonale di 10 pollici e 2, è vero, non abbiamo la compatibilità con una Magic Keyboard, non abbiamo comunque la compatibilità con l'Apple Pencil di seconda generazione, abbiamo ovviamente sia la Smart Keyboard di prima generazione, la migliore Smart Keyboard che Apple abbia mai fatto, quella ripiegabile su se stessa per diventare anche una Smart Cover, per intenderci abbiamo anche poi la compatibilità con l'Apple Pencil di prima generazione, per cui con un piccolo budget, che ovviamente non è un budget tipo per i tablet di Amazon, per i tablet di 8 pollici di Amazon, dobbiamo spendere un po' più di soldi, però comunque ad una fascia relativamente bassa abbiamo notevolmente un buon prezzo. Buon prezzo che onestamente Apple potrebbe iniziare a abbassare per la fascia più importante del 2020, perché la fascia intermedia è quella che esplosa nel 2020 da parte di Apple, perché comunque abbiamo visto che con soli 1159 euro noi abbiamo la possibilità di metterle mani sul prodotto Apple per eccellenza in questo 2020, che ovviamente è il MacBook Air con processore Apple Silicon M1, che è l'inizio di una rivoluzione. Non è il prodotto da prendere in considerazione per una fascia notevole del mercato, quindi la fascia che vuole la performance dal computer, però comunque è una fascia del tutto rispettabile, perché comunque la fascia intermedia, quella che poi andremo ad affrontare anche con iPhone 12 e con iPad Air 4, è una fascia pro ma non troppo. I prodotti pro saranno ancora più pro nel 2021, quest'anno abbiamo visto poca professionalità da parte di Apple nel segmento, nel senso che comunque abbiamo alcune migliorie, ma non abbiamo gli stravolgimenti che in realtà avevamo gli anni scorsi, però è la fascia più interessante e i tre prodotti con processore Apple Silicon, quindi sia il Mac Mini che il MacBook Air che il MacBook Pro che poi non è un vero MacBook Pro ma in realtà è un MacBook Pro cioè un MacBook Air Plus o un MacBook Air Minus non so bene come definirlo in sostanza fanno sì che quella sia la fascia in cui Apple ha dato di più nel 2020 perché abbiamo poche differenze dalla fascia più alta da una fascia che quest'anno in realtà non c'è stata perché comunque se prendiamo il MacBook Air in confronto ad un MacBook Pro con processore M1 abbiamo praticamente lo stesso display abbiamo la stessa tastiera in realtà abbiamo i tasti funzioni con alcuni tasti funzioni dedicati tipo quello del non disturbare dall'altra parte abbiamo la touch bar la durata della batteria pende poco a favore di un MacBook Pro che in realtà ha la stessa dotazione di porte è vero il MacBook Pro ma anche il Mac Mini ha la ventola però onestamente tra i due prodotti io tendo sempre a consigliare il MacBook Air perché comunque è un prodotto che fa l'80 e il 90% delle cose che servono ad una persona quando utilizza un computer e per quel 20% non credo sia poi necessario in realtà un prodotto con M1 a questo punto tendo magari a consigliare ancora un prodotto Intel magari a tenersi stretto il proprio computer io ad esempio ho un MacBook Pro del 2019 con processore Intel e onestamente vedo di buon occhio il processore M1X il processore M2 che probabilmente arriveranno di qui a sei mesi di qui a un anno e poi racconteremo tutto la prossima settimana la fascia più interessante è quella intermedia anche per ciò che in realtà Apple ha fatto con gli iPhone perché comunque quest'anno l'azienda ha voluto stravolgere un pochino il paradigma del Pro perché comunque l'anno scorso le differenze tra le due fasce quindi la fascia intermedia e la fascia più Pro era molto marcata quest'anno in realtà è tutto più fumoso e se noi prendiamo ad esempio i due prodotti che in realtà stanno nel punto mediano quindi l'iPhone 12 e l'iPhone 12 Pro con lo stesso display che è lo stesso display a patto di una maggior luminosità in in classico quindi non durante la visione dell'HDR abbiamo comunque degli ottimi prodotti io ho detto anche qui su ietech tendo molto di più a consigliare l'iPhone 12 perché comunque è un prodotto che viaggia in maniera fantastica il processore è lo stesso abbiamo 2 giga di RAM in più sul Pro però comunque Apple va benissimo gira benissimo iOS 14 anche con 4 giga di RAM e comunque è un prodotto che notevolmente serve a radicare quello che è il 2020 da parte di Apple perché comunque la porta Lightning le abbiamo su tutti i prodotti il processore ripeto abbiamo su tutti i prodotti quello che differisce è la terza fotocamera per poi arrivare ad una differenzazione maggiore 3 Max ma qua ci arriviamo in un in un secondo momento però comunque la cosa interessante è che non abbiamo veramente compromessi non abbiamo quel qualcosa che da persona amante dei prodotti compatti nella fascia quindi il Mac preferisco prenderlo piccolo l'iPad preferisco prenderlo piccolo e l'iPhone Pro preferisco prenderlo piccolo quindi nel mio caso ho un iPhone Pro da 6 pollici e 1 tendo sempre a preferire questo modello però mi sono chiesto tante volte se effettivamente il telefono che mi farà compagnia per tutto il corso del 2021 o meglio per gran parte del 2021 sia in realtà il prodotto da preferire perché comunque un iPhone 12 ripeto non ha nulla di meno cioè ha una fotocamera in meno sì però comunque l'ultra wide è la fotocamera da preferire la zoom puoi fare uno zoom fai un crop non puoi in realtà allargare il campo della fotocamera principale e quindi l'ultra wide che abbiamo sia sul 12 che sul 12 Pro è la fotocamera da preferire e abbiamo le stesse fotocamere il sensore LiDAR che abbiamo solamente sul Pro o lo zoom è vero onestamente sono funzioni che ho usato abbastanza però non sono funzioni che mi hanno stravolto la vita e a volte mi interrogo se in realtà il telefono che io ho scelto appunto per il 2021 sia il prodotto da preferire perché per esempio avrei potuto tranquillamente essere soddisfatto da un iPhone 12 poi in futuro vedremo gli aggiornamenti il 2021 ne parleremo meglio la prossima settimana sarà un anno di divisione più netta quest'anno per esempio non abbiamo nemmeno i 90 Hz lo dicevo in apertura OnePlus ha voluto mettere OnePlus su OnePlus Nord telefono top di gamma assolutamente no telefono entry level uno schermo con refresh rate a 90 Hz in realtà quest'anno Apple ha fatto una scelta diversa però non è che c'è una differenza di tecnologia sono tutti pannelli OLED sono pannelli ottimi non abbiamo più la differenza di tecnologia da una parte LCD dall'altra OLED assolutamente no il design è lo stesso Apple avrebbe potuto differenziare i due modelli con cornici più spesse con appunto il design vecchio sull'iPhone 12 e un design moderno che poi era antico quello di iPad Air dal iPad Pro dal 2018 e ovviamente dell'iPhone dal 4 al 5S e 6 compreso di prima generazione però comunque l'azienda addirittura ha deciso di fare i telefoni talmente simili anzi talmente uguali che se io prendo un iPhone 12 o un iPhone 12 Pro posso cambiare la custodia cioè o meglio le tue custodie sono la stessa custodia non ho differenza tra un iPhone 12 e un iPhone 12 Pro come custodie questo onestamente mi ha stupito perché comunque da utente Pro mi sarei aspettato magari più differenze un notch più piccolo le cornici ridotte ripeto ma la scelta che Apple onestamente ha voluto fare in questo 2020 è stata proprio questa andare a non marcare la differenza tra i due segmenti tra il segmento normale e quello Pro possiamo continuare su questa ambivalenza anche prendendo in riferimento l'Apple Watch abbiamo parlato dei Mac la differenza tra MacBook Pro e MacBook Air abbiamo parlato appunto della differenza tra iPhone e iPad tra iPhone Pro e iPhone non Pro parleremo ripeto della differenza tra iPad Air e iPad Pro però quest'anno è stato un anno decisamente interessante per l'Apple Watch perché comunque è arrivato un Apple Watch di sesta generazione un Apple Watch che porta in realtà poche migliorie rispetto all'Apple Watch di quinta generazione che poi non portava stravolgimenti dalla serie 4 se non lo always on display la bussola e quest'anno in realtà abbiamo semplicemente l'assenza del Force Touch e la presenza del saturimetro saturimetro che tra l'altro non è provato dalla FDA per cui comunque è un qualcosa di non medico ma è un qualcosa diciamo di più ludico anche in realtà perché nel tempo c'è stato anche c'è stato anche più di un di un recensore che comunque ha fatto capire che un saturimetro da dito è meno preciso del saturimetro dell'Apple Watch serie 6 per monitorare l'ossigenazione del sangue e poi la vera novità del 2020 nel segmento Watch non è appunto l'Apple Watch che non porta ripeto tanti stravolgimenti quindi un'evoluzione rispetto ad altre o ad altro Apple Watch quello dell'anno scorso però la vera novità che l'azienda ha voluto onestamente inserire e io mi sono abbastanza stupito è Apple Watch SE che è un SE diverso dall'iPhone SE perché SE onestamente mi sa di basso di gamma quindi mi sa della fascia più entry level in realtà la fascia entry level per Apple Watch resta comunque l'Apple Watch 3 quindi col design vecchio in realtà Apple qua ha voluto replicare lo stesso giochino che l'azienda ha fatto con iPhone quindi il processore in realtà è di uno step evolutivo in meno per cui se abbiamo un S6 un sistema monochip S6 creato sulla base del processore A13 dell'iPhone dell'anno scorso in questo caso abbiamo un processore S5 quindi il processore dell'Apple Watch serie 5 senza in realtà l'elettrocardiogramma e senza l'horizon display per il resto è un prodotto che per la fascia di mercato in cui è inserito è il prodotto da consigliare se mi si dovesse rompere l'Apple Watch io ho ancora un serie 4 e dovessi cambiarlo immediatamente non è che mi strappo le vesti per andare sul serie 6 in realtà io volevo fare l'upgrade quest'anno probabilmente lo farò nel 2021 quando probabilmente Apple prenderà questi prodotti e farà fare ad ogni singolo prodotto un balzo evolutivo però quest'anno è stato l'anno del segmento intermedio e c'era bisogno di tutto questo perché comunque l'azienda ha voluto macinare secondo me tanta tanta carne da ardere quindi c'è tanta carne al fuoco però la carne più succosa dobbiamo ancora aspettarla mangiare perché comunque l'azienda ha fatto delle ottime impressioni con i prodotti che ha messo in campo e sono i prodotti giusti perché comunque nel 2020 per l'anno in cui è stato i prodotti giusti sono i prodotti che sono usciti perché non mi fanno rimpiangere il top di gamma se io in realtà avessi i prodotti mid range quindi avessi un ipad air di quarta generazione avessi un iphone 12 avessi un apple watch serie se al polso un mac book air onestamente non mi dispiacerebbe cioè credo sia la cosa più giusta perché comunque i prezzi sono abbastanza interessanti perché non sono i prezzi che che apple comunque in un modo o nell'altro ci ha abituato però la cosa interessante è che sono i prodotti giusti perché con lo street price probabilmente si abbasseranno e saranno i prodotti base sui quali poi apple deve ripartire con i prodotti pro che dovranno staccarsi i prodotti se quindi un ipad di ottava generazione un apple watch serie 3 che magari potrebbe diventare l'SE nel 2021 con magari un serie 5 o un serie 6 messo come segmento intermedio quindi lì si che se riacquista veramente un senso e con un iphone che con 3 giga di ram va bene con il display lcd va bene ma che in futuro potrebbe essere sempre lcd ma comunque con il touch id sul tasto power potrebbe essere un prodotto interessante ma soprattutto il coniglio dal cilindro che apple ha tirato fuori nel 2020 onestamente è ipad r perché comunque è il prodotto che più mi ha stupito io sono un prodotto di apple in questo senso cioè io sono il prodotto della campagna pubblicitaria a cosa serve un computer cos'è un computer il tuo prossimo computer non è un computer io sono un utente pro di tutto ma soprattutto di ipad dal 2016 però onestamente io attualmente ora come ora il prodotto apple che consiglio di meno è il prodotto apple che io amo di più che è l'ipad pro perché un ipad r che è un ipad pro del 2018 semplificato perché 10.9 pollici e 11 pollici è una sottigliezza la tecnologia del display è quella il processore da una parte abbiamo la 12x sull'ipad pro del 2018 qua abbiamo la 14 che è quasi superiore abbiamo la porta usb c abbiamo il touch id nel tasto home è vero non abbiamo il face id non abbiamo il promotion non abbiamo l'audio quad speaker ma abbiamo lo speaker stereo quindi la possibilità semplicemente di avere la stereofonicità sul semplicemente sull'ipad in orizzontale e non in realtà in entrambi gli orientamenti così come avviene in realtà appunto sull'ipad pro però ad oggi l'ipad pro non lo consiglio perché poi gli accessori sono gli stessi c'è l'apple pencil di seconda generazione c'è la nuova magic keyboard e quindi veramente di cosa stiamo a parlare perché apple deve in realtà spingere su un altro segmento per i pro però quest'anno prendiamo in considerazione l'ultimo ipad pro quello del 2020 prodotto che io ho comprato al day one soprattutto perché la batteria del mio 2018 mi stavo abbandonando già a marzo mi stava stretta io l'ipad lo metto a caricare ogni sera col 30% in realtà credo che la sera io abbia più l'ipad scarico dell'iphone e quindi sostanzialmente lo prendo per avere il top di gamma tra virgolette ma soprattutto per avere un prodotto che ha senso però credo che l'ipad air di quest'anno sia così come l'iphone un prodotto pro ma non troppo perché poi dobbiamo veramente colpire la fascia più alta del mercato con l'ultima parte della puntata di oggi soprattutto perché quest'anno apple appunto con ipad pro ha fatto un mezzo scherzetto cioè ha preso l'ipad pro del 2018 ci ha messo una fotocamera in più ci ha messo il sensore lidar grande punto di domanda ci ha messo la compatibilità con la magic keyboard e il prodotto è stato lanciato soprattutto per lanciare la magic keyboard perché non poteva essere lanciata con l'ipad air perché comunque è un prodotto pro e quindi è stato lanciato a marzo onestamente mi sarei aspettato magari un lancio della magic keyboard con ipad air e quindi semplicemente la magic keyboard con il buco per la singola fotocamera nel 2020 non avendo lanciato il l'ultimo modello di ipad appunto nel 2000 e nel 2020 quindi non a marzo ma magari o direttamente quello del 2021 o magari un ipad che realmente staccasse l'air perché quest'anno a parte il 12.9 che ovviamente ha una diagonale di schermo per forza unica nel suo genere però l'ipad pro da 11 pollici io onestamente non riesco a consigliarlo è il mio prodotto preferito è il prodotto che amo di più è forse il prodotto che uso di più però comunque resto ancora abbastanza boh abbastanza scottato diciamo così e quindi veramente non non riesco a vedere non riesco a vedere migliorie cioè è il prodotto che va bene mi ha messo un cuore in più quindi processore da A12X A12Z non abbiamo nemmeno avuto la 13X perché appunto come dicevamo prima con il processore dello scorso anno Apple almeno su iPhone ha fatto fare dei grossi passi in avanti dei passi notevoli in là in termini di consumo quindi di durata di batteria visto che poi comunque il processore M1 quindi il processore dei Mac che è il prodotto ovviamente del 2020 fa fare degli ottimi numeri io non vi nego che con un processore A13X o un processore A14 l'azienda in un modo o nell'altro mi avrebbe fatto gustare di più un iPad dove magari la durata della batteria si stacca dalle 10 ore dichiarate e in realtà poi faccia fare al prodotto un valzo significativo ma secondo me questo ovviamente tra qualche mese a partire già da marzo potremo aspettarci notevoli migliorie e ovviamente parleremo di questo settimana prossima due ultime considerazioni da fare per la tecnologia soprattutto hardware di Apple nel 2020 la cosa che non mi è piaciuta per niente appunto essendo un amante dei prodotti compatti in tanti vedo che non usano i Mac quest'anno come iPhone ma usano l'iPhone 12 Pro il prodotto Pro deve essere lo stesso nelle due varianti ed è una cosa che mi ha fatto parecchio male perché comunque io ho sempre preferito l'iPhone 6 però è plus l'iPhone 6s plus l'iPhone 7 io l'ho bypassato però poi ho preso l'iPhone XS e c'era nella variante Max stessa cosa lo scorso anno iPhone 11 Pro Max io ho preso in entrambi i casi il 5 e 8 e ragazzi devo essere sincero il prodotto lo preferivo per la compattezza però non avevo rimorsi cioè non è che dicevo cavolo però la cosa assurda che ha il prodotto Max che nel mio caso non c'è però quest'anno si cioè Apple è tornato a fare dei prodotti che si chiamano Max ma che sono plus che hanno delle delle migliorie che onestamente per alcuni sono tangibili cioè quindi il sensore stabilizza cioè la stabilizzazione sul sensore è una cosa che sul mio non c'è lo zoom più lungo quindi c'ho il 2x il 2,5x al posto del 2x è vero il 2x è più luminoso quindi comunque in situazioni di scarsa luminosità va molto bene però mi sarebbe piaciuto che comunque l'azienda avesse fatto altre scelte e spero sia un unicum e già a partire dal 2021 le scelte che Apple farà saranno saranno abbastanza diverse però ragazzi io parte qualche piccolo accenno la scorsa settimana mi sono tenuto qui una delle più grandi novità che Apple ha fatto nel 2020 e ovviamente sto parlando delle AirPod Max che sono le AirPod Max e non gli AirPod Max Apple torna torna praticamente nel 2021 a fare un prodotto audio ha fatto ovviamente qualcosa di speciale già in passato con HomePod lo ha ribadito in questo 2020 con HomePod Mini però quest'anno fa un prodotto diverso un prodotto che che mi piace che mi interessa tantissimo è un prodotto che come dicevo settimana scorsa non costa poco più di 600 euro ma costa poco meno di 700 perché alle 629 euro bisogna aggiungere anche 39 euro di cavo perché un prodotto del genere per quanto non sia un prodotto pro non sia un prodotto destinato al segmento più alto io onestamente non riesco a slegarlo dal cavo io sono sempre stato critico con gli auricolari wireless poi Apple è riuscito a fare la magia con AirPod ha fatto gli AirPod di prima generazione quindi comunque un'ottima indossabilità degli ottimi degli ottimi auricolari che attualmente sono uno status symbol li ha migliorati con una seconda generazione che con il Bluetooth 5.0 andava a sparigliare le carte perché comunque io per esempio ancora oggi lascio il telefono o il tablet in cucina e riesco a pulire tutta la casa semplicemente con un paio di auricolari nelle orecchie nel mio caso sono AirPod Pro però comunque la tecnologia lo stesso e con la variante Pro Apple ha messo la cancellazione del rumore e quindi comunque un nuovo step che poi con con iOS 14 hanno anche avuto spatial audio quindi un audio più coinvolgente e in realtà adesso i nuovi auricolari sono delle cuffie sono delle cuffie over ear sono delle cuffie che quindi sono a padiglione che non vanno ad appoggiarsi sull'orecchio ma vanno a avvolgere l'orecchio e da amante della musica ma soprattutto da utente Apple consapevole di quello che potrebbe essere un prodotto del genere nell'ecosistema perché comunque lo posso usare con un iPhone con un iPad con un iPod Touch con un Apple Watch con un Mac ma anche collegandolo per esempio al microfono che adesso sto utilizzando per registrare al posto delle IAI TMA2 che sono le cuffie che ho utilizzato praticamente quasi dall'inizio di Yetech sono delle cuffie che onestamente mi intrigano tantissimo la cosa che mi lasciano un pochino in dubbio non il prezzo che notevolmente è alto ma innanzitutto che non sono cuffie che hanno il cavo incluso ed è una cosa che non mi va a genio però sono delle cuffie che non vedo veramente l'ora di di ascoltare perché perché sono il prodotto Apple più più interessante perché gli altri prodotti e anche il Mac i Mac con M1 sono sono veramente incredibili però il lavoro che Apple ha fatto e ripeto sono praticamente uscite nel 2021 queste cuffie e il 2021 sarà l'anno del ventennale del primo iPod eh ragazzi secondo me vuol dire inizio di di un percorso anche qui quindi Beats sta iniziando quasi a scomparire ci sono ancora alcuni alcuni segmenti quindi un segmento di cuffie eh che Apple potrebbe tenere in considerazione che è il segmento delle on-ear quindi il segmento ehm dei padiglioni che vanno ad appoggiarsi sopra le orecchie c'è il segmento degli auricolari sportivi e c'è il segmento di quelle che una volta si chiamavano Beats X che adesso in realtà si chiamano Bitflex quindi gli auricolari che vanno in qualche modo ad appoggiarsi sul collo e poi con con i cavi vanno a mettersi nelle orecchie che che potrebbero essere il futuro ed è un prodotto che che mi piace poi vi lascio ovviamente vi lascio un bel link alla recensione di di Marcus Brownlee e quella di Your Ravage Consumer che onestamente seguo da anni e l'ho scoperto soprattutto per il per il segmento audio e quindi è un segmento da da andare secondo me a studiare nel 2021 e la cosa interessante visto anche il prezzo è sapere quanto dureranno queste cuffie perché un paio di cuffie del genere spero che almeno durino 2-3 anni non che ogni anno poi la gente debba cambiare un paio di cuffie da 700 da quasi 700 euro speriamo che poi il cavo almeno sia lo stesso perché se fanno un modello 2 che ha l'ingresso USB-C devo comprarmi un altro cavo da 40 euro che è il base il cavo se compri una cuffia del genere all'80-90% devi anche comprare un cavo perché perché poi serve serve inevitabilmente e quindi vedremo quanto in realtà poi il segmento top di gamma da parte di Apple anche nel campo audio si è in realtà messo a dura prova secondo me Apple anche in questo caso anche con la virtualizzazione non solo del dello special audio ma del Dolby 5 e 7.1 in questo caso potrebbe potrebbe veramente fare un ottimo segmento a parte come raccontavamo settimana scorsa per ciò che in realtà Apple fa già nel campo dei servizi per cui direi che questo 2020 può concludersi qui per YeTech e noi ci sentiamo la prossima settimana sempre di mercoledì sempre alle 14 con la prima puntata del 2021 di YeTech ciao This episode has been produced with PotCleaner discover more at PotCleaner dot com con di